Su questa notizia, ora però vogliamo parlare del patrimonio immobiliare dello Stato, perché venderlo insieme anche agli enti locali sembra la soluzione più logica per alleviare lo stress della finanza pubblica. La realtà però ha dimostrato che vendere è più facile a dirsi che a farsi, lo dimostrano infatti tanti tentativi falliti e le aste andate deserte. Il governo dunque ha deciso di cambiare approccio, ha presentato un progetto che punta più sulla valorizzazione che sulla svendita. Di questo parliamo con un ospite in studio, Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, benvenuto. Grazie. Allora ci racconti subito cosa cambia. Intanto i beni dello Stato, i beni degli enti territoriali sono in buona parte utilizzati per funzioni pubbliche e quelli non abbiamo nessuna intenzione di venderli. Abbiamo però una quota di beni che non sono utilizzati e che possono essere intanto valorizzati al meglio, pensando per esempio di affidarli a privati che possono fare investimenti e tenerli per un certo periodo di anni, traendone un certo reddito, investendo in questi immobili che quindi non vanno degradandosi progressivamente, come purtroppo avviene in molti degli immobili delle nostre città. Parlo di immobili che sono appetibili sul mercato, parlo di beni storici anche di qualità che possono trasformarsi provvisoriamente o comunque per un periodo lungo, 40-50 anni, in alberghi di lusso piuttosto che beni che possono trovare invece un mercato definitivo di alienazione. Per fare questo il governo ha messo a punto una sorta di va de make, un manuale per accompagnare tutte le amministrazioni del territorio e dello Stato, intanto a interpretare al meglio le leggi che ci sono, che consentono anche di interloquire direttamente con soggetti interessati all'acquisto, quindi non necessariamente andare in una vendita ampia, ma con una trattativa diretta. E poi per sfruttare tutti gli strumenti di valorizzazione, parlo anche dei fondi immobiliari di investimenti, che una volta venivano visti come qualcosa di pericoloso, di speculativo, che invece possono essere utilizzati per fare investimenti e sviluppo. Quindi parliamo per esempio di immobili che oggi sono utilizzati dalle forze di polizia, dalle forze dell'ordine, che spesso non sono in condizioni di efficienza energetica, non sono in condizioni di messa in sicurezza e di efficienza tecnologica, che possono trovare un mercato laddove si porti a compimento un'attività anche di razionalizzazione delle forze di polizia, quindi si possono liberare prefetture, questure, anche immobili occupati dai carabinieri. Diverse tipologie, caserme che sono già libere, quindi trovare il modo con le norme e gli investitori anche privati per valorizzarli e trovare un mercato, il mercato a privato. Lei dunque ci ha parlato di un vademecum, si tratta di un manuale, quello che però viene da chiedersi è se basterà per superare così la fermentazione e dunque per mettere in vendita dei beni che abbiano già tutte le carte in regola e diventare così redditizi per chi compra. In realtà il manuale ha anche tutta una serie di best practice, cioè di esempi concreti di vendita e valorizzazione che abbiamo già attuato e stiamo attuando in tutto il territorio nazionale e si tratta poi di metterli in pratica ovunque. Questa è la sfida, noi abbiamo l'obiettivo di vendere un miliardo di euro all'anno di beni, abbiamo anche un altro obiettivo importante, quello di ridurre gli spazi occupati dalla pubblica amministrazione, ma soprattutto le locazioni passive, cioè gli affitti che lo Stato continua a pagare a privati per svolgere la funzione pubblica. Quindi utilizzando al meglio le strutture pubbliche ridurremmo anche i 915 milioni di euro all'anno che paghiamo di affitti passivi. Ecco, dunque nel manuale anche le best practice, ma qual è qualche esempio di successo? Per esempio Villa Tolomei a Firenze era una villa in stato di degrado, oggi è diventato un resort di lusso, avremo a breve il termine della scadenza di un bando per mettere a gara, cioè Villa Tolomei, un progetto di valorizzazione, scusate, una villa vesuviana che è sul milio d'oro, che stiamo valorizzando, che diventerà con un investimento di circa 20-25 milioni di euro, un albergo anch'esso di lusso e restituirà l'investitore un'area pubblica, ad uso pubblico, e quindi ci sarà un vantaggio per lo Stato che recupererà una villa storica e un'area pubblica di fruibilità libera ai cittadini. Quindi in questo connubio virtuoso tra pubblico e privato ci sono vantaggi per tutti. A breve usciremo con il bando di valorizzazione per i fari costieri lungo tutta la costa sud, villa favorita, adesso mi è venuta in mente quella del milio d'oro, dicevo i fari che oggi sono non più utilizzati o parzialmente utilizzati, che possono essere messi a reddito, gli investitori possono investire in questi beni, per un periodo di 30-40 anni possono godere del reddito che genera questo investimento e poi vengono restituiti allo Stato, rigenerati e quindi non abbandonati come sono ora. Esempi così ce ne sono innumerevoli. Grazie, grazie allora Roberto Reggi. Grazie a voi, grazie.